Ciao a tutti e a tutti, bentornati e bentornati in un nuovo vlog. Allora, sì, mi sono un po' truccata perché sembra uno zombie, ma va bene. Sì, ho anche i rossetti rossi da almeno un pochi di mesi, vabbè, meglio. E beh, oltre a quello niente, praticamente, tra un po' andremo a fare una visita per fare una paranamica ai denti di mia nonna, per vedere il fatto che non sta bene, per niente. Però vabbè, almeno passo un po' di tempo con lei, anche perché è da un po' che volevo vederla, anche perché non ho tantissimo tempo da dedicarle e mi dispiace tanto per questo. Vabbè, nulla. Praticamente poi, nello scorso vlog, e adesso modificherò il titolo perché l'ho sbagliato, a volte capita, vabbè, oltre a quello niente. Io ho messo una foto riguardo al fatto che mamma mi hanno dato una di quelle foto in cui si vede mio padre e se potete essere gentili non dite che è brutta, perché se no ci rimane male. Quindi, se non vi piace l'aspetto di mia madre, fatti i vostri. Ma almeno dite che è carina su web, così pensa che l'ho pubblicata per quello, capito? Quindi, se avete qualche problema con mia madre, capoli vostri. Ma non insultatela, ok? Mia madre non si tocca. Comunque, io adesso andremo a fare la visita, poi oggi pomeriggio ci avrò Vale che stiamo organizzando di nuovo quel viaggio che avremmo dovuto fare, ma purtroppo ce l'ha brutto tempo, quindi vedremo un po' con andarci. Quindi, ora vi saluto e ci vediamo domani con il vlog, sperando che mi ricordo. Ciao! Ciao!